Salve a tutti amici, benvenuti a questo nuovo video, io sono Salopinpost, oggi torniamo su Castle Crash, il gioco più scriptato dell'anno, a mio parere Quindi, mi mancano due battaglie per aprire il forziere della vittoria e siamo al castello 6 L'ultima volta ci siamo lasciati tipo al castello 4, non mi sembra una cosa del genere Allora, il mio deck attuale è forte salvo script, quello è indiscutibile Quindi abbiamo un bellissimo scudo che quasi lo porta a livello 8 Sì, ma non cambiare tizio, non cambia, questo dobbiamo usare Le frecce all'otto, il rituale di mana che per me è veramente molto utile Questa l'ho aggiunto ieri, la rabbia, perché vedo che quando me la usano gli altri sono praticamente infermabili Poi, al solito, le driadi che per me sono essenziali, perché sono veramente fighissime L'inferno, le fulmini che proprio non devono mancare I demoni che sono utilissimi nel caso di truppe singole Lo spettro veramente è forte, ma bisogna essere un po' fortunati E ovviamente lo scheletro, il re scheletro che è il re teschio Che ovviamente non può mancare Andiamo a farci la battaglia e vedi e speriamo che me lo faccia aprire sto baul Tipo ora dovrò fare 10 battaglie per vincerne 2 Allora, con chi siamo? Un tizio da 1773 coppo, un livello 6 Volendo, volendo, è una cosa fattibile Volendo Iniziamo con il rituale di mana Vediamo che cosa fa il tizio Il tizio per adesso non fa niente Meglio così Se mi schieri qualcosa io te la distrù niente Utilizziamo la driade Ok, certo, la potevi mettere prima tizio che utilizzavo il demone No, vero? Che sei un bastardo Vediamo se riusciamo a schierare il demone Ma credo di no Quindi mettiamo la pirata qui Vai Ah, bastardo team fu Lo sapevo io Lo sapevo che la furia Ah, io metto un'altra driade qua Via Andiamo di scudo Lo sapevo Vediamo se riusciamo a mettere anche noi il demone Prima che quella muoia Via, via, via No, no, via Muori, muori pure tu allora Bastardo Ok Adesso che facciamo? Aspettiamo un po' Doppie carte Fulmine Direi di usarla Sbanged E poi che abbiamo? Po che abbiamo? Po che abbiamo? Driade E noi dobbiamo accumulare un po' di mana Vediamo Doppie carte Scheletrini Maledetti Scheletrini Una bella inferno Qui Sbangate E la driade ovviamente è una bastardia E resiste Quindi vediamo se possiamo mettere il re teschio Pure 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 Una fulmine Me la date Ok mettiamo questo E subito mettiamo questo E subito mettiamo questo Veloce Ecco lo sapevo io Che quando mi usano la rabbia Non posso fare più niente C'è Ma c'è Ma c'è Perché non posso fare Non posso mai vincere questo gioco Ultimamente Infuriamo tutto Infuriamo Infuria tutto Niente Non posso fare niente C'è ora come mi difendo di queste cose qua No vabbè Prima sconfitta E vabbè E lo sapevo Lo sapevo Dobbiamo fare 10 battaglie Per vincerne 2 Marti Marti 1809 Andiamo 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 Marti Marti me lo fa aprire sto baule Marti non è che devo stare qua a farmi 80 partite Per aprirmi un baule della vittoria Sto gioco è diventato più stressante di Clash Royale Sì Scheletrini Ovviamente Che io non so come fermarli Perché non mi avete dato le carte Giustamente Avanti Ah ma vediamo che facciamo adesso Vediamo Ma poi io lo vedo C'è Io lo vedo quando sono in procinto di perdere le partite Perché proprio Il mio deck non avanza qui È lentissimo È lentissimissimo Qui un demolo lo mettiamo qua Che devo fare Che devo fare A me uscidiamo qualcosa Usiamo questo il rituale Un inferno Immediatamente un inferno Inferno Immediatamente l'inferno L'inferno immediatamente Prima di ora Viii È d'inferno Ok Fulminiamo lui Fulminiamo Sbang Perfetto Eeeh Sei un bastardo Sei un bastardo Sei un bastardo Ok Vediamo di usare Che cosa Che non ho niente Che cosa Le frecce Pure E quale cosa Aspetta qua non mi piace Mettiamo una bella frecciata Una bella frecciata Via di frecciata Via di frecciata Via di teschio Via di reteschio Immediatamente reteschio Adesso Reteschio Via di frecce Via di frecce Via di frecce Veloce Sbang Sbang Ok Uccidiamo quella cosa Mettiamo Mettiamo Uno spettro Lo metterei volendo Mettiamo Fulmine Aspettiamo Una driade Qua aspettiamo La fulmine Mettiamo due driadi Qua aspettando La fulmine Possibilmente Entro dopo domani Fulmine 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 Niente Scuto Niente Mettiamo un reteschio Qui allora Veloce Veloce reteschio Veloce reteschio Ok reteschio Via Via di frecce Qui Frecce Qui Guardate Quello Mi ha messo L'inferno Lì sopra Io ti metto L'altro inferno Tizio Sbang Ok Le ho ucciso Ancora Qua sei Ok Qua Demone Demone Immediatamente Prima di adesso Vai Uccidiamo Quella cosa Sbang Adesso andiamo Di reteschi 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 Veloci Veloci Reteschi Mettiamo Una bella Fulminata Qua Sbang Sbang Ok Andate lì Andate lì Andate lì Qua 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 Via Uno Addirittura Perché sono morti Gli scheletri Non ho visto che sono morti Gli scheletri Andiamoci Di reteschio Qui Di reteschio Niente Vai indietreggiato Mettiamo Qualcos'altro Lì sopra E infuriamo Il mondo Via di furia Via 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 di furia Via di furia Via di furia Sprecata Però Sprecatissima Un altro reteschio Qui Quello mi ha infuriato Il mondo Mettiamo qua Vai 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 Driade Vai driade Vai driade Vai driade Uccidete quei cosi Uccideteli Uccideteli Mettiamo Niente Che metto qua io Che sono tutti scheletri Che è una fulmina qua Veloce 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 Perfetto Lui qua Un paio di frecce Possibilmente Niente Driade Infuriamo Driade Infuriamo Via Driade Uccideli Uccideli Driade Uccideli Driade Uccidi 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 Tutti Mi servirebbe qualcosa di potente Possibilmente Un rituale di mana Un reteschio Mi prego Reteschio Datemi le carte Possibili Non mi danno le carte No Veramente Cioè Ma come si fa così Doppie frecce Triple frecce Un fuoco Tutto Vi uso Perché non ho le carte Il fuoco Lo potete mettere lì Effettivamente Forza Che forza 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 Mettiamo il reteschio Qui Ok Mettiamo subito Lo spettro Immediatamente qua Via di spettro Via di spettro Via di un altro 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 spettro Fantastico Vai Ammazzate questa cosa Spengate Vai Vai che adesso Vi faccio danno Vai che vi faccio danno Pure io ce l'ho tizio Ti pare che non ce l'ho Spengate Ok Ti colpite Che forse vinciamo Per Per mancanza di tempo Estreiamo le carte Estreiamo Estreiamo Reteschio Reteschio Non fate arrivare Quel mago a destinazione Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Forza Fate danni Fate danni Fate danni Fate danni Fate danni Mettiamo il reteschio qui Forza Fate danni Infuriamo il mondo Infuriamo il mondo Dove infurire dall'altro lato però Vai uccidete quella cosa Via fate danni Fate danni Fate danni Fate danni Ok forse ce l'abbiamo fatta Andiamo Sì sì Lo so che non posso vincere Altri forzieri Forza Forza Dobbiamo fare l'ultima battaglia Per vincere il bauletto Un tizio di 1911 coppe Questa avrà sicuramente Una leggendaria Con cui mi spaccare il sederino Fulmine ma dai Ovviamente Che ti pareva Mi davano la fulmine Ma ti pareva Che sono così cretini Da darmi la fulmine Ok che metto qua io Mettiamo la triade Ecco lui Lui si infuri ovviamente Tanto E io la fulmine Non ce l'ho Pure Pure la cura Pure Una fulmine me la dai Niente Niente Io la devo perdere Questa significa che la devo perdere Ora adesso lui lo cura di nuovo Niente Non curi tizio Puso l'inferno Come lo fermi a sto coso No fammi Adesso mi dai la fulmine Ma avanti che la gioco Quella mi ha ucciso il castello Prima Ma la gioco tanto per Guarda Che stress E sto gioco Quanto lo sto odiando Lo sto odiando tantissimo Veramente tantissimo Ok cerchiamo di recuperare Mettiamo il reteschio qui E mettiamo Mettiamo lui qui Demone Via uccidi qualcosa Via Ok Ok Volendo Volendo Vedi Driede qua Ammazziamo qualcosa Infuri No Che hai usato tizio Infuria la driade No Ma bastardo Maledetto Usiamo lo scheletro Reteschio qui Forza E sempre che mi infuria Ma quante furie ti sei portato Tizio Ma che hai la riserva di furie Ma quante furie hai Altra battaglia Ok Netto 1858 coppe Vediamo Vediamo Che dobbiamo fare Usiamo questo Aspettiamo un po' Vediamo Che mi date Usiamo il rituale Vediamo Usiamo lui Così evitiamo Che quella avanzi Sbeng Perfetto Usiamo lo scudo Driade maledetta Usiamo anche noi La driade Mettimola qui Mettimola qui Vai di driade Driade un po' più veloce Però Driade Driade Entro dopo domani Ah va Ah va driade Mettiamo un'altra driade Forza Un'altra driade Tizio che cacchio Ci usi l'inferno Contro le driade Tizio avanti Prepariamoci per la fulmina Perché lui mi schiererà Qualcosa di brutto Vediamo 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 Lo sapevo Ma muori pezzo di fa Ti spacco tutto Ti spacco Avanti Perfetto Uccidi quel Quell'esserino Colpiamo Colpiamo Eh questo ho paura però Colpisci Questi sono forti Bastardi Quanto sono forti Sti cose al 3 Quanto sono forti Sti cose al 3 Che faccio Utilizziamo l'inferno Vai colpisci Che poi utilizzo l'inferno 1 2 3 Utilizziamo l'inferno Adesso Perfetto Frecce 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 Ok Reteschio Entro domani Reteschio Reteschio qui Reteschio qui Fermiamo quell'orco Mettiamo Un fulmine qua Fulmine qua Sbangate Fulmine qua Ok Perché quella mi è rimasta lì Ok Colpiamo il maghetto Maledetto Colpisci il maghetto Colpiamo il maghetto Pure Pure Mettiamo lui qui Mettiamo lui qui Ok Vai Vai che adesso Vi colpisco Col mio spettro Che cacchio C'è intanto Con la sua fiamma Mi distrugge Perché non posso distruggerlo Mettiamo queste Infuriamo l'oro Un po' di frecce Quello è rimasto vivo Infuriamo Questo lo uccidiamo così Forza Forza Uccidiamo la Driade Quella lì Forza Driade Mettiamo Mettiamo questo qui Ok Driade sopravvissuta Forza Mettiamo un altro Spettro qui Spettro 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 Siamo un po' di Un po' in vantaggio Un po' in vantaggio Uccidiamo la Driade Driade Inferno qui Così ammazziamo la Driade Ok Uscite il demone scatenato Forza Attaccate Attaccate come se non ci fosse un domani Forza Hai preso lo scheletro Tizio Con il demone Ha ucciso gli scheletri Infuriamo un po' di cose Via 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 Oh Sto gioco Secondo me Oltre allo script Ci vuole anche un bel po' di fortuna Ok Apriamoci sto forziere Sudatissimo Direi Vediamo che abbiamo Ovviamente Mi danno mai le epiche Ma io le epiche Non le trovo peggio Delle leggendari Apriamo qua Ok Un po' di scudi Almeno lo possiamo potenziare E un po' di orchi Che non li uso Quindi direi Di andarci a potenziare Lo scudo Andiamo Non ho nemmeno i soldi Bellissimo Ok Come al solito Saluto tutto il clan E vi ricordo che Attualmente Ci sono posti liberi Ma se non li trovate Il sabato sera Li potete trovare Quindi A solito se vi è piaciuto Lasciate un bel like Vi ricordo di potete seguirmi Anche sul blog Facebook Twitter Instagram Tutti i dati social Tutti i link in descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi siamo su The Escapists Un gioco fighissimo In cui impersoniamo Un prigioniero Che è Con l'obiettivo Di cercare Di scappare Dalla prigione Vediamo un po' Come fare Spero che qualcuno Mi aiuti Spero che qualcuno